Salve, oggi voglio parlarvi di un documento che l'Associazione Scientifica di Alimentazione Nutrizione e Dietetica, della quale anche io sono socio, ha redatto come strumento utile per una corretta gestione del difficile momento che noi tutti i cittadini stiamo vivendo e dovendo trascorrere più tempo in casa è talvolta un sinonimo di maggiore sedentarietà e rischio di scelte alimentari errate, mentre questo tempo può essere sfruttato in modo costruttivo focalizzando l'attenzione sulle modalità di preparazione dei cibi e soprattutto sulla qualità di ciò che acquistiamo e sull'opportunità di svolgere comunque un po' di movimento e di di attività fisica. Vediamo nello specifico questi otto punti che l'Asand ha redatto. Allora, innanzitutto diciamo che il consiglio principale, il titolo di questo documento è mangiare bene oggi per ripartire più sani domani. Partiamo dal primo punto. Il giusto ritmo pianifica la tua giornata alimentare programmando in maniera regolare tre pasti principali leggeri colazione, pranzo e cena e uno o due spuntini a base di yogurt oppure frutta fresca o anche frutta secca, guscio come semi oleaginosi, mandorle eccetera non salate o ancora frutta e verdure di stagione come per esempio carote, cetrioli. Secondo punto, la lista della spesa. Pianifica il menù settimanale prima di andare a fare la spesa per ottimizzare i tempi e ridurre la necessità di uscire per gli acquisti alimentari. Limita il consumo di alimenti come prodotti pronti, snack dolci e salate e bibite gassate e zuccherine, prediliggendo gli alimenti vegetali come i cereali, legumi, la frutta e la verdura. Ricorda che un uso corretto e consapevole del congelatore non altera il valore nutritivo ed il gusto degli alimenti. Altro punto chiave, movimento ed attività fisica. Sono tante le attività che si possono svolgere a casa per mantenere abitudini sane e gestire lo stress e le emozioni negative. A parte le tante applicazioni per lo smartphone e le piattaforme in rete che permettono di fare un po' di movimento anche quando costretti a casa, non dimentichiamo le faccende domestiche, da fare anche al ritmo di musica o anche il ballo o il giardinaggio per chi ha la fortuna di avere un giardino, un balcone o un terrazzo. E ultimo, ma non meno importante, il gioco in compagnia dei bambini. Altro punto, nutriamo le emozioni. Condividere i pasti con i propri cari è importante ed utile per rendere più piacevoli le giornate, godendo del tempo ritrovato e di una atmosfera familiare nuova. Quando possibile si può mangiare tutti insieme in balcone o in terrazzo. Ricorda che una sana alimentazione è importante per il benessere del corpo e della mente. Prepara pasti semplici ed equilibrati. Più tempo a casa significa anche più tempo a disposizione da dedicare alla cucina e alla sana alimentazione, senza rinunciare a gusto e piacere in tavola. Per evitare di appesantire troppo il pranzo o la cena puoi anche preparare dei piatti unici composti da una porzione di cereali ottuberi, come per esempio pasta, farro, pane, orzo, riso, patate e una porzione di alimenti proteici, per esempio legumi, uova, pesce, carne, formaggi, chinoa. Il tutto da accompagnare con sempre tante verdure e il condimento migliore è l'olio extravergine d'oliva, un grasso di qualità. Ricorda che le pietanze poco elaborate, a base di verdure e alimenti di origine vegetale, hanno un alto potere saziante e un apporto energetico ridotto. Mai dimenticare l'acqua. Bevi acqua durante tutta la giornata a piccoli sorsi. Puoi consumare anche delle tisane o centrifugati, come per esempio centrifugati di frutta o verdura di stagione, evitando sempre di aggiungere lo zucchero per gustarne appieno i sapori. Altro punto importante, mantieniti in forma. Tieni sotto controllo il tuo peso per evitare spiacevoli sorprese. È consigliabile pesarsi una volta alla settimana, magari nello stesso giorno e nella stessa ora, ricordando che le piccole oscillazioni del peso sono normali ed accettabili. Ultimo punto. Tutti in cucina. Dai spazio alla creatività coinvolgendo i bambini nella preparazione di gustosi piatti a base di verdure e legumi, oppure preparando a casa pane, pasta o pizza. È un modo per trasmettere la passione per la cucina ai più piccoli e condividere del tempo in famiglia. Bene, per oggi ho terminato, quindi ricorda i consigli che l'ASAN, l'Associazione Scientifica Alimentazione e Nutrizione e Dietetica, ci ha dato. Quindi mangiare bene oggi per ripartire più sani domani. Vi aspetto al prossimo podcast.